Buonasera a tutti, ottava tappa del nostro percorso nell'era del coronavirus, un percorso che volge al termine. Il lockdown finisce il 3 maggio, il 4 di maggio avrà inizio la fase 2 e vedete alle mie spalle la cattedrale di Santa Maria Maggiore a Barletta. Proprio da Barletta avevamo cominciato il percorso per poi proseguire con Trani, Andrea, Biceglie, Molfetta, Cerignola e Margherita di Savoia. Torniamo quindi da dove abbiamo iniziato, torniamo iniziando il nostro percorso che ci porterà quest'oggi a raccontare quella che è stata la settimana appena trascorsa e a chiudere un po' il cerchio prima di iniziare definitivamente la fase 2. Ci porta a partire da un luogo che è finito al centro della cronaca proprio di queste ultime ore. Parleremo ovviamente anche di quello che è accaduto ieri all'arrivo dell'icona della Madonna dello Serpeto portata dal santuario proprio qui in cattedrale. C'è stato un episodio di assembramento, parleremo anche di questo proprio per comprendere quali sono i rischi che ci accompagneranno nella fase 2. Ovviamente questo di cui vi parlo, di cui vi parlerò e che magari conoscete già è un episodio estremo di assembramento ma sarà questo forse uno dei motivi ricorrenti della fase 2. Parleremo ovviamente anche della curva del contagio e parleremo degli aspetti economici, dell'emergenza economica che il coronavirus sta portando con sé. Lo faremo passeggiando fino alla Litorania di Ponente e quindi cominciamo la nostra passeggiata anche quest'oggi. Nell'ingresso della cattedrale ci siamo spostati all'ingresso della Villa del Castello che è chiusa almeno fino al 3 di maggio, poi capiremo se ci sarà anche margine di riaprire. E' permesso dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avvia la fase 2, fase 2 che è avviabile grazie ai buoni risultati della curva del contagio. In Italia e in Puglia anche proprio quest'oggi sono 34 i nuovi casi di coronavirus che sono stati registrati nel bollettino del 2 di maggio, su 1.078 tamponi, il rapporto tra nuovi positivi e tamponi è del 3%, quindi più o meno in media a quello che è accaduto negli scorsi giorni. È stata una settimana piuttosto costante da questo punto di vista, addirittura aperta con i soli 10 nuovi positivi di lunedì 27 aprile. Poi ci sono state delle oscillazioni verso l'alto. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Capo della Task Force Epidemiologica per Luigi Lopalco sono intervenuti per tranquillizzare la popolazione. Sono questi dei dati sotto controllo, le oscillazioni verso l'alto sono fisiologiche e quindi si può iniziare con la fase 2. Nella BAT sono oltre 380 i nuovi positivi e quindi più o meno sono numeri stabili. La fase 2 può cominciare ma la fase 2 non implica la possibilità di episodi come quello di cui vi accennavo che è accaduto proprio qui a Barletta, proprio nel punto in cui abbiamo cominciato la nostra passeggiata. L'occasione del primo di maggio, che è la festa dei lavoratori ma è anche l'inizio del mese mariano, come da tradizione l'icona della Madonna dello Starpeto che è custodita nel santuario a 3 km dall'ingresso della città di Barletta, viene portata qui in cattedrale. Ovviamente quest'anno non era permessa la partecipazione del pubblico perché siamo in lockdown e quindi è stato disposto un trasporto su un furgoncino che ha portato qui l'icona scortato dalle forze di polizia. Non c'era nessuna possibilità di partecipare alla Peregrinazio, ci sono state anche delle dirette televisive, e anche su tutte le regioni abbiamo trasmesso questo trasporto, però all'arrivo dell'icona qui in cattedrale si è creato un assembramento di gente, delle immagini che hanno fatto il giro d'Italia e hanno creato naturalmente scalpore. La cittadinanza, la gran parte della cittadinanza che è rimasta a casa, ha sollevato il proprio grido di indignazione, tutte le forze politiche hanno chiesto spiegazioni, hanno chiesto un'assunzione di responsabilità agli organizzatori, al sindaco che poi è intervenuto questa mattina dicendosi sorpreso, dicendo che una situazione del genere era inimmaginabile anche per gli organizzatori dell'evento che avevano raccomandato tutti i fedeli alla possibilità che loro rispettassero le regole. E' accaduto questo e adesso naturalmente c'è la ricerca della responsabilità di quello che è accaduto. Questo episodio è proprio quello che non deve succedere nella fase 2, perché bisogna tenere alta la guardia, l'ha ripetuto più volte il presidente della regione, anche avviando la fase 2 pugliese, che è iniziata lo scorso 29 aprile con la riapertura per esempio dell'asporto per i bar, delle toilettature per cani o dei cimiteri, come è avvenuto anche qui a Barletta e nelle altre città del territorio. Quello che è accaduto ieri va stigmatizzato, offende la cittadinanza, ripeto, che ha deciso di rimanere a casa. Bisognerà capire di chi sono le responsabilità e bisognerà impedire che questo accada. Assolutamente non deve succedere più una cosa del genere per nessun motivo, altrimenti la curva del contagio tornerà a rialzarsi e davvero sarà difficile anche ripartire per un'economia che già a fatica sta provando a ripartire. Di questo abbiamo parlato questa settimana e di questo parleremo anche più avanti con chi da vicino e con chi in prima persona sta vivendo questo dramma di alcuni comparti dell'economia che stanno facendo fatica e stanno subendo con maggiore vigore questa crisi sanitaria che è anche crisi economica. Tra i settori del comparto economico più colpiti c'è quello turistico ricettivo, quello della ristorazione nella zona in cui siamo, della città di Barletta, in via Mura del Carmine. In questo momento della stagione l'attività di ristorazione, di ricezione dei turisti è già iniziata da un po' di tempo. A questo ora ci sarebbero stati sicuramente i bar aperti, una giornata gradevole. In questo momento è tutto chiuso, come abbiamo già accennato la possibilità di lavorare per i bar c'è solo con l'asporto e il domicilio e si prospetta una stagione difficile, una stagione che bisogna ancora comprendere come si potrà svolgere. Abbiamo parlato degli assembramenti, abbiamo raccontato quello che è accaduto l'1 maggio. In questa zona, nei giorni di primavera e di estate, c'è una concentrazione di gente, di barlettani, ma anche di persone provenienti dalle città limitrofe che affollano questi marciapidi. Uno spettacolo che siamo stati abituati a vedere nel corso degli anni, di quando questa zona è stata rivalutata, ma uno spettacolo che probabilmente quest'estate, anzi sicuramente quest'estate, non potremo rivedere. I locali dovranno adeguarsi a quelle che sono le norme di sicurezza e adesso capiremo come e come si stanno muovendo con una persona, un ospite, come ospiti ci hanno accompagnato nelle ultime passeggiate, un ospite che ci spiegherà bene di cosa stiamo parlando e di quella che sarà la stagione estiva per le attività della ristorazione, del divertimento anche nella città di Barletta. Il nostro ospite di oggi è Antonio Quarto, che è il gestore di un'attività di ristorazione qui in città, ma è anche il vicepresidente dell'Ape, Associazione dei Pubblici Esercenti, che ci racconta un po' quella che è la prospettiva di questa stagione, come hai detto una stagione che a questo punto, in condizioni normali, sarebbe già iniziata, invece è una stagione che è ferma, è una stagione che deve fare i conti con quelle che sono le prescrizioni di sicurezza. Prescrizioni di sicurezza che non sarà facile rispettare, soprattutto in luoghi come questo, che, come vi dicevo, sono abituati a vedere un grande affollamento di persone, che quest'anno non potrà esserci, quindi vorremmo anche cominciare a capire come vi state organizzando e quali sono le prescrizioni che sarete poi pronti ad adottare per iniziare la stagione. Buonasera Antonio. Buonasera, intanto la situazione sicuramente in questo momento è ancora poco chiara, perché stiamo aspettando i DPCM e comunque tutte le prescrizioni per l'apertura, quindi è una situazione ancora molto molto confusa, considerando che non si riesce ancora a capire quando apriremo, si parla del primo giugno, si parla anche di un anticipo da parte di alcune regioni, probabilmente anche della Puglia, però la situazione che viviamo oggi è di incertezza. Abbiamo chiesto ai vari amministratori, sia locali, sia regionali, tramite anche associazioni nazionali, insomma chiaramente stiamo portando delle proposte al Governo, però le risposte tardano ad arrivare, chiaramente a livello comunale si può fare poco perché le ordinanze arrivano dal Governo o dalla Regione, quindi stiamo aspettando. Come credi che si possa far fronte a una stagione in un luogo come questo, dove gli spazi sono ristretti, dove bisognerà invece rispettare il distanziamento sociale, un'ipotesi potrebbe essere il taglio dei posti a sedere magari, ma con queste prescrizioni quanti credi riusciranno a fare i conti e magari invece quanti rinunceranno non potendo poi rientrare nelle spese? Sicuramente il taglio dei posti è una delle opzioni, ma come dicevi tu è sicuramente antieconomica. Una delle proposte che abbiamo portato dal Comune, da questo punto di vista c'è un'apertura, però chiaramente andrà approfondito l'argomento, è quella di allargare lo spazio per i Deors, chiaramente laddove è consentito, laddove lo spazio lo permette. Noi stiamo chiedendo il raddoppio dello spazio dei Deors, appunto per cercare di mettere quantomeno lo stesso numero di tavoli e fare servizio al tavolo, considerando che sicuramente il servizio al bancone sarà eliminato o comunque sarà ridimensionato in maniera particolare. Quali sono le altre proposte che sono sul tavolo del confronto tra voi e l'amministrazione, sempre naturalmente fermo restando quelle che saranno le indicazioni del Governo nazionale? Noi stiamo chiedendo intanto l'abolizione del pagamento della tassa del suolo pubblico, l'abolizione del pagamento della Tari, quindi della tassa sui rifiuti, l'annullamento di quelle che sono le spese di diritti di segreteria nella presentazione delle varie domande, una moratoria sugli affitti e chiaramente dei contributi a fondo perduto per questi mesi che sono andati persi. Da questo punto di vista chiaramente il lavoro è tanto da fare perché il Comune attualmente non dispone delle risorse per coprire queste spese e quindi aspettiamo fiduciosi risposte dalla Regione e dal Governo. Abbiamo ascoltato quello che è il grido d'allarme di coloro i quali gestiscono degli esercizi nella zona del centro storico della città di Barletta, una stagione che non è ancora cominciata, ci siamo spostati intanto in Piazza Marina, qui alle mie spalle c'è Porta Marina, un altro dei simboli della città. Quello dei ristoratori non è naturalmente l'unico settore in difficoltà. Questa settimana è stata caratterizzata anche dalla protesta dei barbieri che proprio qui a Barletta lunedì sono scisi in piazza per protestare contro la decisione del Governo di riaprire le attività l'1 giugno. C'è stato anche un incontro da parte dei loro rappresentanti con il Presidente Emiliano e con il Professor Lopalco per cercare di tracciare delle linee guida che possano permettere una riapertura anticipata rispetto all'1 giugno e possono permettere anche di contrastare il lavoro nero, il lavoro a domicilio non regolarizzato che si sta diffondendo per fare i conti con la crisi economica. C'è stata anche la protesta nella città di Andria delle operatori mercatali che ha portato alla riapertura dei mercati settimanali per quanto riguarda gli alimentari. Ad Andria si riaprirà lunedì, a Barletta invece si è riaperto oggi ci sono state polemiche anche per questa riapertura, sono state segnalate alcune immagini di assembramenti, noi abbiamo ascoltato anche il Vice Sindaco della città Marcellona Notte che ci ha spiegato la situazione, erano lì presenti, la riapertura comporta anche qualche rischio e quindi bisogna fare i conti anche con queste situazioni e bisogna ovviamente vigilare perché le regole si rispettino. Abbiamo ascoltato la voce di Antonio Quarto, adesso ascolteremo la voce di un altro ristoratore che ha un'attività proprio qui in Piazza Marina e capiremo quelle che sono le problematiche che stanno affrontando. Il nostro secondo ospite di oggi è Franco D'Agostino, titolare di un ristorante qui in Piazza Marina. A lui chiediamo cosa sono stati questi due mesi di chiusura, come sta andando la ripartenza con il domicilio e l'asporto e chiediamo di fotografare la situazione della sua attività che credo sia un po' quella di tutte le attività di ristorazione in particolare. In particolare è un nuovo lavoro, praticamente è qualcosa che non ci appartiene perché noi siamo un ristorante, lavoriamo all'interno, fino ad oggi ci siamo specializzati, qualificati, abbiamo fatto sacrifici per avere il nostro lavoro. Questa è una cosa nuova e sinceramente dalle prime esperienze stiamo messi male, se devo dire la verità, non si può andare avanti così, non è il lavoro nostro, stiamo cercando, stiamo combattendo, stiamo cercando di limitare i danni se mai ci riusciremo. In quanto imprenditore, commerciante, non so come definirmi, sono abituato a combattere, ma combattere con delle prospettive che al momento non ci sono, adesso mi viene in termini un po' amareggiato da questo punto di vista. Cosa chiedete alle istituzioni, cosa chiedete in particolare per sostenervi, per aiutarvi e per non farvi mollare, perché il rischio è che in molti lascino, gettino la spugna? Chiediamo che chi deciderà di fare, di attuare le disposizioni che poi avremo in seguito dal primo giugno, e cioè come dobbiamo lavorare, faccia un po' di esperienza del posto, cioè sappia almeno di cosa stiamo parlando, perché in una ristorazione mettere, abbiamo sentito, ma speriamo non sia vero, i plexiglass, distanziamento, tavoli a due metri, se le cose sono quelle, il mio pensiero attuale è quello che evidentemente faremo forse quest'estate, proveremo ad andare avanti per quest'estate, combatteremo, che Dio ce la mandi buona, e poi dopo, se le cose non andranno, restituirò la partita viva, non so che dire, attualmente è così, speriamo che io mi possa sbagliare, anzi, possa sbagliarmi di grosso, però lo stato d'animo attuale è questo. Le parole di Franco D'Agostino fotografano quello che è lo stato d'animo dei ristoratori e ci introducono a quelli che saranno poi i temi fondamentali della fase 2, oltre a quello che ci dovrà convivere con il virus e ci dovrà vedere sempre con la guardia alta per evitare che il contagio possa risalire e danneggiare, in questo caso davvero in maniera irreversibile, la nostra economia. Il tema sarà come provare a risollevare la nostra economia in una situazione, però, che deve vederci rispettare delle norme fondamentali per, appunto, evitare la risalita del contagio. Noi stiamo proseguendo e arriveremo alla conclusione del nostro cammino all'imbocco del lungomare di Ponente, il lungomare Pietro Mennea. Il lungomare Pietro Mennea ci porta inevitabilmente a parlare anche di quella che sarà la stagione balneare, l'abbiamo già affrontato l'argomento la scorsa settimana a Margherita di Savoia, non ci sono state grosse evoluzioni nella settimana appena trascorsa, ma naturalmente con il passare dei giorni sarà un argomento che prenderà sempre più vigore, più giorni passeranno e più sarà difficile capire come si svolgerà la stagione. È tornato con noi Antonio IV che gestisce la sua attività proprio qui sulla Litorania di Ponente e Pietro Mennea e quindi è una buona occasione per chiedergli anche da questo punto di vista quali sono le prescrizioni per gli stabilimenti e per i ristoranti negli stabilimenti che a questo punto avranno vita non facile nel rispetto, naturalmente, delle prescrizioni di sicurezza. Sicuramente quel che riguarda i ristoranti e bar all'interno degli stabilimenti balneari vale quello che vale fondamentalmente in città, quindi ancora una situazione di incertezza, si può partire con l'asporto e il domicilio e quindi come diceva giustamente Franco insomma è un modo per tamponare in questo periodo ma è sicuramente la soluzione risolutiva a tutto. Per ciò che concerne gli stabilimenti balneari la situazione è ancora più confusa perché stiamo attendendo quelle che saranno le prescrizioni anche per mettere gli ombrelloni, per piantare gli ombrelloni, cosa che non è ancora arrivata, quindi siamo in questa attesa che come dicevi giustamente tu più passano i giorni più diventa impellente risolvere questa situazione perché siamo a maggio quindi la stagione estiva è alle porte doveva essere forse già cominciata per certi versi soprattutto per ciò che riguarda bar e ristoranti nelle strutture. Una situazione in divenire quindi anche per quel che concerne la stagione estiva io ringrazio Antonio Quarto per averci fatto compagnia questa sera in quest'ultima passeggiata nella fase 1 dell'Ira Coronavirus, grazie Antonio. Grazie a voi, grazie a te. Ringrazio naturalmente anche Franco D'Agostino per il suo racconto, per averci fotografato un po' lo stato d'animo di tutti credo i ristoratori, grazie Franco. Grazie per l'opportunità, grazie a te. Il nostro viaggio è stato lungo otto tappe, si conclude qui, si conclude in riva al mare, si conclude sulla litoranea Pietromennea di Barletta, è stato un viaggio intenso, iniziato nella prima decade di marzo con il primo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che decretava la zona rossa in tutta Italia, il cosiddetto lockdown, abbiamo provato a raccontarvi quella che è stata questa attraversata in uno dei momenti più difficili, forse il più difficile del secondo dopoguerra, sicuramente il più difficile degli ultimi vent'anni e abbiamo percorso davvero tanti chilometri, siamo partiti da Barletta, abbiamo raccontato tutte le città del nostro territorio, Trani, Andria, Biceglie, Molfetta, Cerignola, abbiamo raccontato il tempo della Quaresima, il tempo della Pasqua, abbiamo vissuto tutti quelli che sono gli aspetti che sono stati toccati, gli aspetti della nostra vita, tutta la nostra vita è stata toccata da questa emergenza sanitaria, un'emergenza sanitaria che a differenza del nostro viaggio non è ancora finita, con la quale ancora dovremo fare i conti, con la quale dovremo convivere, il lockdown però finisce, finisce il 3 maggio, il 4 maggio inizia la fase 2 con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue contraddizioni che abbiamo accennato anche quest'oggi e che continueremo a raccontarvi nelle prossime settimane, la speranza è che si riesca a vincere questa battaglia, qualcosa è già stato fatto, molto però bisognerà ancora fare, sia dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, sia soprattutto in questo momento dal punto di vista dell'emergenza economica, io vi ringrazio per averci seguito in questa nostra avventura, in questo nostro racconto, vi invito a non mollare, a non abbassare la guardia e tutti quanti insieme ce la faremo, grazie a tutti.